ah raga sta macchina va più veloce che cosa è una lambombombomborghini e c'è un coapistone cup andiamoci sopra jessica mamma mia mi sembra di cavalcare un drago dai jessica che sono il protagonista di fast and furious 27 questa levetta che serve per andare nell'idrospazio insieme ad anakin skywalker dai dark fener party ah jessica qua possiamo pure farci un bambino e se ci esce femmina come la chiamiamo elettra lamborghini sto scherzando sto scherzando la chiamiamo jessica come la mamma bella ma questo con la smart che sta facendo a bello la macchina tua costa 300 euro usata al conad la mia costa un miliardo vale quanto ama